Il male oscuro di Giuseppe Berto, eccolo, questa è la copertina, anno 1964, indubbiamente il romanzo italiano del Novecento più conosciuto al mondo. Uscì in quest'anno 1964 per la casa editrice Rizzoli e in un'unica settimana vinse sia il premio Viareggio che il Campiello. Cos'è che colpiva? Colpiva l'autoanalisi del protagonista, qualcosa di nuovo perché dissolta dal flusso di coscienza, in una prosa d'avanguardia, tutta in prima persona, volutamente povera di punteggiatura, che rappresentava appunto in quegli anni qualcosa di davvero, di veramente innovativo, qualcosa che andava molto oltre il modello, pur evidente, di un romanzo come La coscienza di Zeno di Italo Svevo, uno dei classici della letteratura italiana. Ma non era solo per via dello stile che Il male oscuro di Giuseppe Berto improvvisamente rompeva gli schemi convenzionali della prosa italiana. Centravano una trama piena di flashback, la sfacciata sincerità tipica dei grandi scrittori, la determinazione a prendere di petto un tema moderno e inedito allo stesso tempo. All'epoca la depressione, intesa come patologia, era tutt'al più un capriccio da borghesi, una posa da intellettuale esistenzialista, un vizio da borghesi eccentrici, da malati di nervi, come si diceva a quei tempi. Giuseppe Berto ha avuto il coraggio, primo in Italia, di innervare del suo romanzo la lettura e la lezione di Sigmund Freud. Lo scrittore butta sulla pagina, in presa diretta, la sua stessa psicoanalisi personale, tanto che il titolo del romanzo diventa da quel momento in poi un sinonimo accettato, un'espressione anche familiare se vogliamo e abusata della depressione e questo male di vivere. Nel 1958 del resto Giuseppe Berto aveva 44 anni e stava malissimo, traumi infantili e un irrisolto problema con la figura del padre, fino a quando incontrò Nicola Perotti, uno dei pionieri della psicoanalisi in Italia, che dal 1945 contribuì a diffondere nella cultura italiana le teorie di Freud e l'interesse per la psicopatologia quotidiana. Ecco, Nicola Perotti lo prese in cura e il terapeuta lo convince a riportare tutto sulla pagina, come era un classico, così come viene, senza fermarsi mai, il flusso di coscienza. In due mesi di autoreclusione nella piccola casa che si era comprato in cima allo sperone calabrese di Capo Vaticano, caro al mio amico Giuseppe Meligrana di Tropea, lo scrittore butta giù il testo torrenziale di quello che diverrà il male oscuro. che dirà, queste sono le sue parole, è pressa poco il racconto della mia malattia. Certo, Giuseppe Berto ammetterà il debito, il suo debito con la coscienza di Zeno di Svevo, ma anche con la cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, dalla quale ricavò il titolo, in un certo modo, del suo capolavoro. Il male oscuro segna tuttavia una svolta fondamentale rispetto a quelle opere precorritrici. Non descrive, perché appunto, perché non descrive semplicemente una nevrosi, ma la mima, la incarna, la trasmette a chi legge. E questo è un passo decisivo. Il suo linguaggio, questo lo scrive Emanuele Trevi, è la manifestazione stessa del male, l'epifania tragicomica della sua oscurità. È un'assoluta novità, diciamo noi, estetica e narrativa, che Giuseppe Berto non esitò a battezzare come stile psicoanalitico. Nelle pagine del romanzo c'è indubbiamente il più grande lamento dell'io del panorama letterario del Novecento italiano. È un libro che non appare in Italia nella seconda metà del secolo scorso, per semplicità di ideazione, per energia stilistica, per la forza di persuasione, per la potenza di effetto. Il libro quando uscì era appunto il 1964 e si avvantaggiava sicuramente di alcune notevoli suggestioni letterarie del momento. Una su tutte, il romanzo di Joyce, l'Ulisse, che era appena uscito nella sua prima traduzione italiana di Giulio De Angelis ed entrava allora ufficialmente anche nella nostra letteratura. E nei fatti, gli anni Sessanta, sono in Italia gli anni della scoperta di Joyce. Altro esempio, Raffaele della Capria tentava delle nuove tecniche con Ferito a morte, il suo romanzo. Umberto Eco esercitava sul capolavoro di Joyce le sue prime prove critiche di semiologo e Giuseppe Berto ne prese appunto qualche ispirazione più che stilistica. Perché nelle pagine del Male Oscuro è centrale, essenziale, fondamentale, direi, la tecnica, come abbiamo un po' accennato prima, del flusso di coscienza. Tutto procede con una sintassi aperta e attraversata dalle associazioni di idee incontrollate. Il romanzo entusiasmò subito anche altri grandi depressi, se così vogliamo definirli, dinobuzzati. Intromontanelli. Ma per il resto, all'interno della letteratura italiana, purtroppo, trovò al di là dell'immenso, del notevole successo di vendite, una accoglienza tiepida, quando non diffidente. Una sorta di ostracismo timido, allora. Poi l'ostracismo diventò piuttosto forte. E venne stroncato, venne stroncato pian piano, quando non travisato, frainteso, dalla critica di formazione crociana o Gramsciana, che erano le due scuole di pensiero. Tra i detrattori più feroci, Pierpaolo Pasolini, che accusava Giuseppe Berto di sprecare il suo talento raccontando vicende personali e che, alla notizia dei due premi letterari, andò su tutte le furie. È una vergogna, non dovevano, non dovevano dargliene neanche uno. Una reazione, quella pasoliniana, che è stata spiegata da un giornalista amico dello scrittore, Giancarlo Meloni, che dice, col fiuto che lo distingue, Pasolini vede subito in Giuseppe Berto l'autore del romanzo italiano che vuole la gente, impastato di sentimenti, grandi problemi e qualche speranza ironico e drammatico insieme. L'Ippolito Nievo del Novecento, uno che minaccia di diventare il primo. E poi, a spiegare le stroncature che colpiscono il male oscuro di Giuseppe Berto, c'era anche il fatto che la novità del libro aveva completamente spiazzato la cultura di sinistra del tempo, che era in ritardo sulla psicanalisi, ne ignorava le tecniche e, non avendo adeguati metri di giudizio, fraintendeva o equivocava. D'altronde Giuseppe Berto non si allineò e ne schierò mai. Le virgolette sono della figlia Antonia e se non eri dichiaratamente di sinistra in quell'epoca eri costretto al silenzio, altrimenti ti davano del fascista. Lui diceva quello che pensava senza nascondersi. Guerra in camicia nera, il libro che mio padre dedicò agli anni del conflitto in Africa, è un'enorme denuncia della guerra, ma ha fatto comodo a molti, fraintenderlo. Mio padre si teneva lontano da determinati ambienti, non si era mai compromesso, mai mascherato, non ha mai negato quello che aveva e gli è costato molto essere ostracizzato. Giuseppe Berto, del resto, si tenne sempre a debita a distanza dai salotti che contavano a quei tempi e dalle consorterie politico-culturali. Altra piaga dell'epoca, ma non è cambiato molto direi da quei tempi a oggi. Reduce dal campo di prigionia per non cooperatori, non si affrettò mai a fare abbiure sulle sue guerre da fascista. Anzi, si dichiarò anarchico per rassegnazione e per disgusto. Non si aggregò mai ai carri egemoni. Altro virgolettato interessante è quello della giornalista radiofonica Dina Luce. In una delle ultime interviste che Giuseppe Berto concesse ci fu questa. Dice Io non voto. Io il mio dovere di cittadino lo faccio scrivendo, non mettendomi al servizio dei partiti. Ho votato due volte per un amico socialista, ma quando mi sono accorto che non capiva niente, ho smesso di votare. Le sue bestie nere, come è scritto Corrado Stajano, uno dei massimi giornalisti italiani, erano i critici e gli intellettuali, che allora gravitavano intorno al mondo di Mario Pannunzio e all'Espresso diretto da Arrigo Benedetti. E poi c'era Sergio Saviane, una delle firme più note dell'Espresso, che ha ricordato come negli ambienti della redazione di Via Po fosse stato dichiarato un vero e proprio ostracismo, l'eliminazione totale. Non ho mai capito perché per Giuseppe Berto, uno dei pochi scrittori autentici d'Italia. E Sergio Saviane con Giuseppe Berto condivideva la provincia di Proveninz. Sergio Saviane di Castelfranco e Giuseppe Berto di Mogliano, Mogliano Veneto. Probabilmente, come una volta suggerì Carlo Bo, i critici non gli perdonavano la colpa del successo e questa è una colpa che si fa pagare a molti. Eccoci quindi al punto di partenza. È forse solo adesso che può cominciare un'altra epoca. E in effetti, un'epoca che è quella del giusto riconoscimento, anche critico, per Giuseppe Berto. Come si legge, si può leggere nella fascetta, nella nuova fascetta editoriale di Neripozza, che ha ripubblicato, ha riedito Il Male Oscuro, viene finalmente presentato come il capolavoro di un grande del Novecento. E anche questo è un segno che in questi 50 anni di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Speriamo continui a passare. Pantarei.